La voce è una cosa straordinaria, perché quella che sentiamo di Serge Etienne e quella che sentiremo di Gregory è la loro voce, l'unicità della voce è quella che secondo me rende straordinario il fatto di ascoltare un concerto di questo tipo, quindi spero che sia un concerto interessante per noi e che seguiremo la carriera di questi giovani cantanti, a loro tutto il successo e la speranza di una lunga e fruttosa carriera. Grazie. 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 Grazie.